Una due giorni di agonismo, spettacolo e risultati di rilievo. Questo è stato il trofeo Valformazza che assegnava i titoli del Comitato Alpi Centrali. Un vento fastidioso ha caratterizzato la giornata di sabato dando del figlio da torci dai 170 atleti al via delle varie prove in rappresentanza di 27 Ciclub del Comitato Alpi Centrali. In campo femminile tra le under 14 vittoria di Vanessa Comensoli della Polisportiva Le Prese che ha vinto in 15 minuti 57 secondi 8 decibi staccando Martina Bonacorsi e la compagna di squadra Chiara Lelitro tra le under 16 ancora Polisportiva Le Prese sugli scudi grazie a Manuela Salvadori che ha conquistato la vittoria staccando al secondo posto Elena Rossi sul terzo gradino del podio Lucia Isonni. Tra le giovani signores che hanno corso sulla distanza di 5 chilometri la più veloce in assoluto è stata tra le giovani Lara Centamori del Valle Vigezzo in 16 54 e 6 decimi che ha preceduto Veronica Silvestri e Giulia Cozzi. La prima senior è stata invece Agnese Maria Frigerio. In campo maschile nell'under 14 la portacolori dell'alta Valtellina Alfredo Gaglio ha vinto la sua categoria con il tempo di 16 minuti e 5 decimi. Secondo Nicola Sarocca terzo Davide Negroni tra gli under 16 dominio di Davide Compagnoni dell'alta Valtellina che ha staccato di quasi un minuto e mezzo. Davide Negrini e Daniele Pizio tra i giovani e tra i signores vittoria rispettivamente di Francesco Manzoni dell'alta Valtellina e di Pietro Mosconi dell'EF. Il giorno dopo domenica è stata la volta della tecnica classica nell'under 14 partita con 43 secondi di vantaggio. Vanessa Comensoli ha confermato la prima posizione tra le under 16 e anche qui pronostico rispettato da Manuela Salvadori che ha bissato il successo del giorno precedente. Stesso discorso anche tra le giovani dove ha mantenuto quasi mutato il vantaggio che aveva alla partenza Lara Centamori della Valle Vigezzo. Nell'under 14 maschile il successo è andato all'alta Valtellina protagonista con i suoi atleti Alfredo Gaglia, Nicola Sarocca e Davide Negroni. Tra gli under 16 maschile non ha avuto rivale Davide Compagnoni che forte del vantaggio di quasi un minuto e mezzo accumulato il giorno precedente si è gestito andando a vincere in tranquillità. Bel successo di Michele Gaspari che invece ha recuperato nel corso del primo giro il distacco che lo separava da Francesco Manzoni ed è andato poi a vincere superando di 48 secondi il rivale sul terzo gradino del podio Davide Mazzocchi. Il primo tra i signori è stato Michele Matri del Valle Antigorio.